In divisa e con i fischietti, ma pronti a paralizzare la città. Saranno in migliaia, arriveranno da tutta Italia per il primo sciopero nazionale della storia dei vigili urbani. Una decisione sofferta, giura l'OSPOL, il sindacato che ha indetto autonomamente la protesta, spaccando le posizioni inizialmente unitarie. Un segnale che però era ormai quasi imprescindibile dopo la campagna di screditamento delle ultime settimane nei confronti dell'intera categoria. L'appuntamento è alle 9, il corteo partirà alle 10.30 da Piazza della Repubblica, si snoderà verso Via delle Terme di Diocleziano, Via Cavour, attraverserà Via dei Fori Imperiali fino a Piazza Venezia. Lì il corteo si fermerà per il picchetto d'onore davanti all'altare della Patria, poi riprenderà scendendo lungo via del Teatro di Marcello per arrivare fino a Piazza Bocca della Verità. Attesi a Roma almeno 10.000 vigili, arriveranno 50 pullman, treni da tutta Italia, a traghetti dalla Sicilia e dalla Sardegna, con un'adesione prevista dell'80% del corpo. A Roma l'Ospol spera che l'adesione sia del 40% dei 6.000 agenti capitolini. Intanto va avanti l'inchiesta sui vigili assenteisti. Al momento gli indagati sono tre accusati di essere gli organizzatori della protesta del 31 dicembre. Secondo i titolari dell'inchiesta avrebbero agito attraverso Facebook dando indicazioni su quali medici contattare e su come ottenere certificati di malattia. Sono infatti oltre ai 600 i medici che potrebbero finire nel mirino della procura l'intenzione di accertare se i 638 certificati firmati dai camici bianchi siano stati prodotti in seguito ad una regolare visita ambulatoriale.